Ciao a tutte ragazze, questo video di oggi è un video un po' culturale, in quanto volevo condividere con voi un libro, volevo parlarvene, un libro che è diventato il mio amore di quest'estate, ovvero il mio 20 settembre di Simonetta Agnello Orbi, me ne parlo in maniera molto breve. Simonetta Agnello sposata in Orbi, praticamente si sposa con un diplomatico londinese ma è siciliana verace proveniente dalle campagne di Mosè, in provincia di Agrigento. Si trasferisce nella sua infanzia a Palermo, principalmente in via 20 settembre. In questo libro racconta appunto questo suo passaggio le storie di famiglia, viviamo delle tradizioni che ci fa sempre piacere sentire e soprattutto raccontare. Lei le racconta con un stile di scrittura egregio, oserei affermare, egregio impeccabile e soprattutto scorrevole, per cui è un libro che fa piacere leggere e bersi, in quanto sono anche storie allegre, sono storie problematiche, storie anche allegre, ma soprattutto ci danno uno specchio di quella che era la Sicilia di altri tempi, le tradizioni in modo di vivere il matrimonio da parte, dalla parte dei figli e dalla parte dei bambini che vedevano appunto, che vedevano i matrimoni all'antica in una maniera curiosa e nello stesso tempo curiosa in un misto tra studi e in un misto tra stupore e disincanto. Quindi in questa atmosfera lei poi passa alle varie fassi della sua crescita, tra cui appunto l'inaugurazione in società. Che dirvi, non spendo altre parole, spero di avervi curiosito e spinto a leggere questo libro. Un bacione da Manuela Facile e Veloci Opinioni. Alla prossima!